E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNate91, ci ritroviamo su Watch Dogs 2, nella seconda puntata del cazzeggio, con Abdullin. Ma chi è quella? Che sta facendo? Cosa stai facendo? Co? Cosa? Co? Sto vedendo bene? Sto ved... La vernice fu... No! Incominciamo bene! Ma porco Giuda! Spò! Che cacchio! Che ca... Ma che ca... Ma... Assurdo! Vernici volanti, signori! Vernici volanti! Wow! La mia supercar, signori! Oggi vorrei vedere le reazioni delle persone se le insulto. Mettiamoci qui. Giorno! Insulta! Ehi! Vaffanculo! Sacco di letami! Ma che... ma che diamine! Oh cazzo! Scappi? Adesso scappi? Aspetta! Buon Natale! Brutto animale! E' felice anno nuovo! Oh! Sì! Oh mio Dio! Una donna che picchia un ragazzo! Deve essere bello potersi lasciare i problemi alle spalle, eh! Hai scelto la giornata a spalla! Oh no! Oddio! Ehi! Testa di cazzo! Scocci di! Boia! Mamma mia! Sul salto! Ci credi davvero? Oh mio Dio! Dai! E adesso? Buon Natale anche a te! Schifosa! Ferma! I camion della mamma! Vaffanculo! 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 Mi hai sentito? Oddio! Eh! Ingorghi! Ingorghi signori! Mamma mia! C'è il casino qui in mezzo! Mamma santa! Gio dammi la pazienza perché se mi dai la forza faccio la strage! Yeee! Con la circolare! Andiamo a prendere la gente! Sì sì! Wow! Una Ferrari! Vai! La padrona! La padrona! Ferma! Vai via! Grazie mia! Posso venire pure io? Scusi! Ho perso il pullman! Scusi! Si può fermare? Grazie! Non si fa... Signore! Signore! Signo... Mi faccio entrare... Mi fa entrare... Mi fa entrare... Si fermi! Signore si fermi... Oh grazie! Oh! Sono arrivato! Frankenstein vive! Non voglio farmi coinvolgere! Hai steso chi? Hai steso chi? Non si scappa da me! Adesso faccio lo sfracello! Polizia! Venghi! Venghi! Allora ragioniere che fa? Batti? Ma... Mi dà del tu? No no! Dicevo... Batti lei? Ah! Congiuntivo! Sì! Aspetti! Venghi! Anche lei! Venghi! Venghi da me! Ok grazie! Auto della polizia! Ci voleva! Ah! Fermo il veicolo! Non lo fermo! Non lo fermo! Aiuto! Mi inseguono! Vai! Baron! Casino! Perché è tutto buggato? Ha buttato il telefono! Ha buttato il telefono a terra! Il telefono! Magari! O se così nella vita normale! Già avevo 15 telefoni! Chi ho vastu ce la fa paura! Sa piccia e fa rumore! Gigi D'Alessio! Ciao! Questo è come mi piacciono le tue canzoni! In tutte le puntate trovo questo! Oh mio Dio! Ma sì dai! Per oggi! Per oggi cambiamo! Vai! Vabbè basta da! Non parla! Ehi tu! Oh! Ecco come va a finire! Come va a finire! Cosa? No! Non fa nulla! Vedi di levarti dai coglioni! Che c'è? Sei triste? Che devo fare? Sono circondato da bambocci! Psst! È grosso! Oh! Torna indietro! La fantozzi! Ah! Arrivederci eh! Si è buggata l'auto! Si è buggata l'auto! Si è buggata l'auto! Trema! Oh mio Dio! Oh mio Dio! La testa! Lo so! Mi servono i soldi ragazzi! Eeeh! Chissà qualcuno mette qualche spiccio! Oh mio Dio! Che volo! Oddio! Oddio! Vai! Ahahahah! Cosa? Ahahahah! Oddio! 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 Cosa? No non mi interessa Guardate che bug Tutte le persone che passano qui Si buggano Adesso arriva questo Guarda il bug su questo Guarda Dai dai vieni Vieni Vai Oddio 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 C'è liberato uno C'è liberato uno Oddio Allora se il personaggio di sopra si ferma si sbloccano tutti se Continua a cercare di camminare Vedete si sbloccano Adesso riparte e si ribloccano tutti Ecco che arriva dove vai No no signore da qui da qui Da qui signore c'è un bellissimo bug per lei Oh mio dio Oh mio dio Esplode tutto esplode tutto Esplode tutto esplode tutto esplode tutto Oh mio dio esplode tutto esplode tutto Ma arriva qualcuno a soccorre Oh Eccolo qui E' arrivato Ma che fa? C'è un altro po' Che cacchio fa? Non sto facendo nulla Mamma mia C'è questo dovrebbe soccorrere Guarda C'è questo dovrebbe soccorrere Invece ammazza C'è vuole passare lì Non è che scende Ecco Adesso Scappa Che succede? Cosa? Oh mio Dio Oh mio Dio Che cosa? C'è quello vuole soccorrere Nel frattempo Ne hanno già fatto i funerali Guardalo C'è riuscito C'è riuscito C'è che cosa fa? Ora la polizia si porta C'è la polizia non dice niente Ecco che ci riprova Ecco che ci riprova C'è i poliziotti nulla Guarda che insiste C'è io non sto schiacciando nulla Fa tutto da solo Oddio Oddio Ma esplodono Si è fermato Ci riprova Esce il poliziotto Scappa il poliziotto Va bene ragazzi Io penso di chiudere qui Questa puntata Su Watch Dogs 2 Modalità cazzeggio Se vi è piaciuta Tanti bei like Condividete Commentate E ciao a tutti Da PierreDarkNight91 I nostri avversari Sono tornati in vantaggio Sono tornati in vantaggio Chi cazzo è? Madonna E ne spara dopo Tonno santo Ha ha Pazzo di me